Clemente Alessandrino. Tito Flavio Clemente, meglio noto con il nome di Clemente Alessandrino, fu un teologo, filosofo, apologete e scrittore cristiano del secondo secolo dopo Cristo. Visse tra il 150 circa e il 215 circa. Clemente nasce da genitori pagani, presumibilmente ad Atene, intorno al 150. Solo in età adulta si converte al cristianesimo e dopo essersi convertito al cristianesimo viaggia di luogo in luogo alla ricerca di un'istruzione sempre più accurata. Si lega di volta in volta a maestri differenti, ad uno greco oionico, ad un altro della Magna Grecia, ad un terzo di Siria e dopo tutti questi maestri si rivolge ancora a un egiziano, a un assiro e a un 180 presso la scuola di teologia di Alessandria d'Egitto incontra il filosofo Panteno e nei suoi insegnamenti dice di aver trovato la pace. Il luogo stesso era stato scelto accuratamente. Era naturale che la speculazione cristiana dovesse avere una sua casa ad Alessandria. Alessandria era al tempo stesso sia un centro di cultura sia un centro commerciale. Sotto la lunga protezione dello stato era sorta e si era sviluppata una grande università. La tendenza intellettuale era vasta e tollerante e per questo Alessandria divenne ben presto una città multietnica e multiculturale. I filosofi erano critici o eclettici e Platone era indubbiamente il filosofo prediletto. Il neoplatonismo, la filosofia della nuova rinascita pagana, aveva un profeta ad Alessandria nella persona di Ammonio Sacca. Anche gli ebrei, decisamente numerosi, potevano respirare l'atmosfera liberale di Alessandria e potevano assimilare la sua cultura secolare. Proprio gli ebrei formarono la colonia più illuminata della diaspora. Avendo abbandonato l'uso dell'ebraico, trovarono necessario tradurre le sacre scritture in greco, che era loro più familiare. Filone di Alessandria, il primo pensatore della comunità ebraica, divenne una sorta di Platone ebreo. Insomma, Alessandria era uno dei luoghi principali in cui si poteva rinvenire quella mescolanza di paganesimo e speculazione cristiana nota con il nome di gnosticismo. Basilide e Valentino stessi avevano insegnato là. E non desta meraviglia trovarvi anche qualche cristiano colpito di tanto in tanto dallo spirito scientifico. In questo clima culturale, in una data incerta, comunque nella seconda metà del secolo, sorge una scuola di istruzione orale. Vi venivano effettuate delle letture alle quali potevano assistere anche uditori pagani, mentre l'insegnamento più evoluto era impartito disgiuntamente ai cristiani. Si trattava di un'istituzione ufficiale della Chiesa. Panteno fu il primo insegnante il cui nome ci sia stato tramandato. Ebbene Clemente prima assiste e poi succede a Panteno stesso nella direzione della scuola intorno al 190, quando Panteno viene designato dal patriarca Demetrio di Alessandria come missionario in India. Prima del pontificato di Papa Vittore I, 188-199, in ogni caso Clemente era già noto come scrittore cristiano e in questa fase probabilmente compone l'esortazione ai greci, protreptikos pros ellenas. Compone anche le disposizioni, ipotiposeis, la miscellanea, stromateis, e il pedagogo, paedagogos. Sotto la sua guida, dal 190 al 202, la scuola alessandrina diviene davvero celebre. Qui si formano teologi come origene, che gli succede alla guida della scuola stessa. Possiamo dire che questo grande rivolgimento culturale degli anni in cui vive Clemente è davvero decisivo per la formazione della cultura del tempo. Clemente non compie la sua vita ad Alessandria, da che la quinta persecuzione si abbatte sull'Egitto nell'anno 202 e i catecumeni sono colpiti in maniera particolare. La scuola catechetica di Alessandria ne soffre di conseguenza. Nei primi due libri della miscellanea, composti in questa fase, troviamo molteplici allusioni alla crisi. Alla fine Clemente è obbligato a fuggire. Poco tempo dopo si trovava Cesarea in Cappadocia, ospite del suo amico e antico alunno, il vescovo Alessandro. La persecuzione era comunque crudele anche laggiù e Clemente svolge un ministero di amore. Dopo che Alessandro viene imprigionato per la sua fede in Cristo, Clemente si prende cura della chiesa di Cesarea al posto suo, ne rafforza i fedeli e addirittura produce nuove conversioni. Questi accadimenti sono narrati in una lettera scritta probabilmente nel 211 o 212 da Alessandro per congratularsi con la chiesa di Antiochia per l'elezione di Asclepiade alla guida della diocesi. In un'altra lettera scritta intorno al 215 a origine, Alessandro però parlava di Clemente come di una persona defunta. In questi ultimi anni Clemente prende parte anche alla controversia pasquale. Clemente non ha grande influenza nello sviluppo della teologia, se non la sua influenza personale sul giovane origine. Le opere di Clemente sono state copiate di quando in quando, come possiamo ben dire accade con Sant'Ippolito di Roma nel suo cronicon, d'Arnobio e da Teodoreto di Cirro. San Girolamo ammirava la cultura di Clemente, mentre Papa Gelasio I, nel catalogo attribuito, gli menzionava le sue opere, ma aggiungeva che non devono in nessun caso essere accettate. Fozio I di Costantinopoli nel suo testo biasimava una serie di errori dedotta dagli scritti di Clemente, ma mostrava tutto sommato una propensione benevola verso Clemente stesso, che nella storia era stato ridimensionato dalla grandiosità del suo allievo origine, che come già ricordato succede a Clemente nella guida della scuola di Alessandria. Fino al XVII secolo Clemente viene venerato come santo, il suo nome era citato ad abundanziam dai martirologi, era in qualche modo considerato un punto di riferimento imprescindibile, che non poteva essere eluso. Ma quando il martirologio romano fu riformato da Papa Clemente VIII, dietro consiglio del cardinale Cesare Baronio, il nome di Clemente venne eliminato dal calendario. Papa Benedetto XIV ratificò la decisione del suo predecessore per il fatto che la vita di Clemente era poco conosciuta, non ebbe mai un culto pubblico all'interno della Chiesa e alcune delle sue dottrine erano, se non sbagliate, se non altro sospette. In tempi più recenti il favore nei confronti di Clemente è aumentato, un po' per il suo affascinante stile letterario, un po' per il suo candore, anche per lo spirito coraggioso che lo ha reso in qualche modo pioniere della teologia. Il già citato spirito di Clemente era per molti versi già moderno e poi soprattutto era molto colto per l'epoca in cui è vissuto. Aveva una conoscenza completa dell'intera letteratura biblica e cristiana, delle opere sia ortodosse sia eretiche, era versato nelle lettere, aveva un'eccellente conoscenza dei filosofi e dei poeti pagani, insomma era una figura di grande cultura a tutto tondo potremmo dire. Le principali opere di Clemente le abbiamo già citate, nel protrettico o esortazione ai greci troviamo un persuasivo appello alla fede, scritto in un tono molto alto. In questo testo Clemente prova a dimostrare la trascendenza della religione cristiana e lo fa contrapponendo il cristianesimo con l'abiezione dei riti pagani e con le vane speranze dei poeti e dei filosofi pagani. Il protrettico termina con la descrizione del cristiano timorato di Dio, è uno scritto composto in risposta a quanti predicavano che fosse sbagliato abbandonare l'antica religione. Le disposizioni rappresentano invece un'opera in otto libri, in buona parte andati perduti salvo alcuni frammenti in greco riportati da Eusebio di Cesarea, da Ecumenio, da San Massimo il Confessore. Le disposizioni sono state tradotte in latino da Tirannio Rufino con il titolo di Dispositiones. Il testo è un testo anch'esso importante, che merita di essere letto perché in qualche modo racchiude il pensiero fondamentale di Clemente. Per quel che riguarda poi la miscellanea, Stromateis, si compone di ben sette libri, dei quali i primi quattro sono antecedenti a quella successiva, cioè l'opera Il Pedagogo. Quando ebbe finito quest'ultimo lavoro Clemente tornò alla miscellanea, che non terminò mai. Le prime pagine dell'opera sono andate perdute e ciò che è noto fin dai tempi di Eusebio come l'ottavo libro altro non è se non una raccolta di citazioni di filosofi pagani. È probabile, come è stato detto, che Clemente intendesse avvalersi di questi materiali sostanzialmente per riformulare il suo pensiero. Comparava l'opera a un prato dove tutti i generi di fiori crescono a caso, oppure a una collina ombrosa, una montagna su cui crescevano alberi di ogni genere. L'analisi di Clemente mostra che si trattava di una serie di appunti su argomenti vari, probabilmente note sulla sua lettura alla scuola. E tuttavia è sicuramente il più completo degli scritti di Clemente. L'opera principia con l'importanza della filosofia nella ricerca della conoscenza cristiana. Forse Clemente desiderava difendere il suo metodo scientifico dalla critica dei confratelli più conservatori. Nel seguito dell'opera Clemente mostra come la fede sia riferita alla conoscenza e valorizza la superiorità della rivelazione sulla filosofia. La verità di Dio deve essere trovata nella rivelazione. E un'altra parte importante può essere rinvegita, nella filosofia stessa. Il cristiano non deve trascurare nulla, spiega appunto Clemente. La scienza religiosa, dedotta dalla sua duplice fonte, rivelazione e filosofia, è anche elemento di perfezione. Il cristiano istruito è il cristiano perfetto, colui che in qualche modo si forma in maniera compiuta. Per quel che riguarda il pedagogo si tratta di un trattato pratico in tre libri, un'opera importante avente come obiettivo quello di addestrare il cristiano a una vita morigerata e disciplinata, a ciò che possa diventare un cristiano istruito. Nei tempi antichi il pedagogus era lo schiavo che era continuamente responsabile di un ragazzo. Da lui dipendeva la formazione del carattere del ragazzo stesso. Questo è l'ufficio della parola incarnata verso gli uomini. Nulla è troppo comune o banale per la cura del pedagogo. La sua influenza ricade sui dettagli minuti della vita, sul modo di mangiare, di bere, di dormire, di vestire. Il tono morale di questo scritto è gentile, ed è assai affascinante l'ideale di una vita trasfigurata descritta sul finale dell'opera. Il pedagogo, nelle edizioni successive delle opere di Clemente, è seguito da due corti poemi. Il secondo, dedicato al pedagogo stesso, è opera di qualche pio lettore dell'opera. Il primo, intitolato Inno al Salvatore Cristo, nei manoscritti che lo contengono, viene attribuito a Clemente, ma forse l'opera potrebbe essere opera sì di Clemente o forse antecedente anche.